Diciamocelo, lo stop loss è veramente, veramente pericoloso. È veramente pericoloso soprattutto se non si sa come gestirlo e se non si sa che cosa fare dopo. Alzi la mano chi qua ha fatto i peggiori danni dopo uno stop loss. Sì, ecco, non adesso ma sicuramente all'inizio quando mi sono approcciata appunto ai primi tempi al trading, ecco, sì, ho fatto i peggiori danni. Perché questo? Perché lo stop loss è un qualcosa che se non se ne capisce bene il significato, se non lo si comprende appieno, non lo si fa proprio, non viene accettato, poveretto, non viene accettato. E quindi dopo che questo viene preso si fanno i peggiori danni con il revenge trading, quindi il trading vendicativo, con quelle azioni impulsive per cercare di recuperare quella perdita. E quel click, quel click è la cosa peggiore che voi possiate fare perché ragazzi non siete lucidi. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, bentornati sul canale se siete di ritorno, invece benvenuti se siete nuovi. Per chi non mi conoscesse io sono Martina, trader dal 2015 e trading coach della community degli Ichimokers. E oggi sono qui per parlare di un argomento veramente veramente importante, lo stop loss. Che cosa fare dopo uno stop loss? Come gestire uno stop loss? Ovviamente come sempre ragazzi fatemi sapere se questi video vi piacciono lasciando un like, un commento e iscrivendovi al canale. Così che io capisco che questa tipologia di video vi piace e ovviamente ne vado a fare tantissimi altri. Quindi come detto nell'introduzione oggi andremo a parlare di stop loss. Che cosa fare dopo uno stop loss? Come gestire uno stop loss? E soprattutto che cosa non fare dopo uno stop loss? Questo perché come già anticipato lo stop loss è qualcosa di molto pericoloso se non lo si sa prendere ecco. E purtroppo c'è una grande categoria di traders, secondo me tra l'altro la maggior parte, che al prendere dello stop loss diciamo viene azionato un meccanismo che va a far impazzire il trader e quindi fargli fare delle azioni che a volte può anche andare bene, forse pure peggio quando questo succede. Ma altre volte si vanno veramente a fare dei danni enormi sul proprio conto perché si fa un trading di vendetta, un trading vendicativo, si vanno a forzare operazioni che non esistono in realtà. Questo perché non si accetta quello stop loss e non solo si vuole recuperare quella perdita ma volendo si vuole pure portare a casa un guadagno. Ma tutto nasce col voler recuperare quello stop loss che non si voleva prendere e lì di solito avviene il danno peggiore in assoluto. Quindi restate come in questo video perché adesso andiamo subito a vedere cosa fare esattamente dopo uno stop loss per evitare di fare danni. Vi lascerò una tabellina che potete scrinnare, salvarvi, che vi aiuterà veramente tantissimo. E ovviamente sono tutte regole che dovete seguire, ecco non pensiate di guardare questo video o di stopparlo a metà perché è troppo complicato perché non andiamo da nessuna parte. Quindi se siete pronti a dare una svolta al vostro trading, al vostro trading vendicativo, trading di vendetta chiamiamolo così, questo video fa per voi e io non posso che lasciarvi alla sua visione. Eccoci qua su uno degli ultimi stop che ho preso, si tratta di un'operazione su AudiCAD che purtroppo è partita, ha reagito bene ma non mi ha reagito abbastanza bene né per proteggermi né per poter effettuare qualunque altra cosa quindi poi l'operazione è andata in stop. Che cosa fare adesso? Punto numero uno, andiamo a duplicare il layout di TradingView. Parentesi, se non avete la possibilità di duplicarlo perché magari avete un abbonamento che non ve lo permette io vi consiglio di fare questo piccolo investimento anche per procurarvi un pro o un pro plus di abbonamento per avere questa funzione perché credetemi che per quanto sembri stupida è qualcosa che vi dà veramente tantissimo poi in vista di uno studio soprattutto poi nel lungo periodo. Quindi che cosa faccio? Mi posiziono sopra il layout in questo caso dell'operazione che io ho già salvato perché è un layout studio vado sulla freccettina e faccio Crea Copia a questo punto lo andrò a chiamare AudiCAD Stop Loss Copia per Studio così perfetto ora vado a recuperarmi l'operazione perché eccoci qua perché sono tornata indietro con la funzione replay per andarvi a recuperare il momento esatto dello stop loss quindi punto numero uno facciamoci una lista così ve la potete screenare e salvare copia del layout mettiamo tra parentesi per studiare ok sembra analfabeta ma ho il microfono davanti quindi non vedo bene la tastiera a questo punto ci tocca cancellare tutto quanto e andare a rifare la stessa identica analisi che abbiamo fatto prima ma attenzione non si può barare dobbiamo essere in grado di rifare la stessa identica analisi e attenzione perché se dite eh ma oddio io non mi ricordo c'è qualcosa che non va ricordiamoci che alla base il vostro trading deve essere replicabile ok quindi procediamo adesso cancellerò tutto punto per punto perché così non perdo la lista voi semplicemente potete fare tasto destro elimina disegni così tanto nel caso avete comunque il vostro layout precedente ed è tutto quanto salvato quindi io vado ad eliminarmi l'entrata, le zone eccetera eccetera e mi sposto sul daily spostiamo questo qua quindi io vado a rifare semplicemente la mia analisi la mia analisi vede una struttura da queste parti e ragazzi se siete curiosi di tracciare supporti resistenze come tracciare le strutture in generale ho fatto un video dove lo spiego ve lo faccio passare qua sopra così potete approfondire però ovviamente alla fine di questo video non perdetevi il focus su questo se questo è il topic che vi interessa quindi questa è la mia struttura vado poi a valutare l'equilibrio con Ichimoku fattore per me fondamentale e vedo che c'è grande disequilibrio dalla Kijun anche dalla Tenkan e dall'Ecumo in generale andando a creare poi quella che è una cunetta io la chiamo così quindi grande lontananza dalla Tenkan mi sta a significare grande volatilità in questo momento dell'asset in questione dalla Kijun poco equilibrio dall'Ecumo lì si va ad avvalorare la tesi del poco equilibrio quindi c'è bisogno di recuperare l'equilibrio è chiaro che non ho la sfera di cristallo nessuno può averla quindi statisticamente potrebbe avvenire su questa zona qua ma è una statistica che funziona in percentuale ci tengo sempre a ricordarlo perché purtroppo là fuori ci sono ancora persone che pensano ci siano strategie che funzionano al 100% delle volte ecco non è così poi se la trovate qua sotto in descrizione trovate pure la mia mail così me lo potete dire me la mandate magari diventiamo tutti ricchi ok quindi vado poi a vedere il tutto anche con le bande danno un aiuto in più però insomma non stiamo qua ad approfondire mi sposto sul quattro ore ok sul quattro ore vado a cercare quella che è la mia confluenza in questa situazione e trovo questa struttura qua quindi adesso sto tracciando tra l'altro tutto un po' la buona ragazzi perché in realtà vado sempre molto precisa con il magnete ultimamente visto che 3DV ogni tanto fa qualche scherzetto e ci troviamo così quindi anche qua Ichimoku grande disequilibrio stiamo un pochino rallentando diciamo sotto il punto di vista di volatilità infatti possiamo vedere che ci sono un po' di candele che hanno appunto rallentato però ci siamo sempre disequilibrio ok a questo punto mi sposto sul 15 minuti ok dove vado a costruire il mio setup il mio setup in questione è questo qua io ragazzi riesco a riconoscerlo subito perché ho delle regole specifiche ok quindi vedete questo è il mio setup e vedete che è esattamente lo stesso di qua quindi abbiamo esattamente la stessa costruzione io so che questo è il mio setup ho delle regole precise specifiche che mi dicono che questo è il mio setup lo saprei replicare mille altre volte ok ed è importante che anche voi lo sappiate fare a questo punto inserisco il mio target vado ad inserire il mio rischio rendimento ok quindi il mio stop loss in questo caso diventa di 60 pips per delle mie regole ok vado adesso a posizionare il punto d'entrata e 3 2 1 eccolo qua ovviamente non approfondisco questo argomento perché entreremo troppo nel dettaglio e comunque questo non è il video diciamo adeguato per parlare di punti d'entrata a questo punto la mia entrata effettivamente avviene con questa candela qua delle 14.30 quindi vado a segnalarmi l'entrata con il mio evidenziatore e vediamo che il setup è identico tranne per il fatto che qui il rischio rendimento è un po' più tirato quindi ok lo troviamo un po' più diciamo così giusto perché poi magari sembra diverso ma ok è più o meno fatto così ok vedete che tranne per la posizione sul grafico combacia tutto perfettamente qua c'è una linea in più che mi serviva come punto di riferimento ma vedete che il setup è esattamente lo stesso quindi a questo punto io ho paragonato il mio studio in un secondo momento con quello che è il mio stop loss e devo dire che combacia tutto rifarei tutto? assolutamente sì rifarei tutto quanto perché sono le mie regole e io conosco anche le statistiche delle mie regole so quante volte queste cose funzionano quante volte non lo fanno e sono diciamo tutelata ok quindi andando a riprendermi la nostra lista che adesso non so dov'è vediamo se la recupero no non siamo ancora così avanzati purtroppo niente ragazzi 14 ore dopo ho dovuto riscrivere perché il testo si è perso all'interno del grafico lo vedo sul daily ma sul 15 minuti non c'è più comunque non importa allora la nostra lista appunto copia del layout per studiare a questo punto al punto numero 2 ci andiamo a chiedere rifarei esattamente lo stesso trade nel mio caso la risposta è affermativa sì perché sono le mie regole lo rifarei mille altre volte ok quindi a questo punto mi ritrovo con un trade che effettivamente è studiato combacia con le mie regole segue le mie regole e ci siamo quindi da qua andiamo a fare uno schemino dove si aprono due possibilità ok rifarei esattamente lo stesso trade sì rifarei esattamente lo stesso trade no diciamo che voi avete fatto lo studio e vi siete resi conto che uno magari non sapete replicarlo quindi qua facciamo una piccola parentesi delle situazioni in cui la risposta è no che cosa può essere successo magari uno non sapete replicare l'operazione due non so perché sto facendo i numeri fra parentesi ma ormai continuiamo così avreste fatto l'operazione in modo diverso quindi qua dovete capire se l'avete sbagliata la prima volta o la seconda c'è un piccolo studio da fare ok punto numero tre avete trovato degli errori quindi avete sbagliato l'entrata avete sbagliato una struttura quello che è punto numero quattro non 84 ma solo quattro l'analisi coincide parzialmente quindi trovate una struttura però non trovate l'altra trovate il pattern ma non c'è la struttura avete l'analisi fatta bene ma non avete il pattern quindi queste sono tutte le situazioni in cui la risposta può essere no rifate appunto il tutto anzi no vi fermate prima non lo rifate neanche perché non sapete come replicare l'operazione questo è un grande problema ragazzi forse è il più grande perché significa che non avete delle regole replicabili oppure lo rifate vi rendete conto che avreste fatto l'operazione in modo diverso tipo io mi rendo conto che non era questo il mio pattern l'ho sbagliato il mio pattern era lui e questo mi fa notare che non sarei mai entrata a mercato e quindi in realtà lo stop loss non era da prendere ok oppure avete appunto trovato degli errori quindi l'operazione l'avreste fatta comunque però c'era un errore comunque quindi è un bene saperlo studiarla oppure appunto l'analisi coincide parzialmente trovo le strutture però il pattern non c'era oppure il pattern c'è ma la struttura era diversa questa era più in alto o più in basso e via così ok queste sono tutte le quattro poi ce ne sono tante altre di ipotesi se vi vengono in mente potete pure scriverle qua sotto nei commenti del perché potremmo non ritrovarci e voler fare lo stesso trade quindi una volta che la risposta è no nonostante abbiamo già queste categorie io vi consiglio di farvi uno studio del perché quest'operazione è diversa dalla prima quindi abbiamo visto queste quattro categorie andatevi a scrivere come mai nel vostro studio perché in questo caso quell'operazione vi renderete conto che non era da fare quindi lo stop loss in realtà è stato un errore ok potete dire per esempio uno non so perché l'ho fatto quindi questo si lega al punto numero uno non so perché l'ho fatto qual è la soluzione a questo problema andiamo anche a vedere le soluzioni mancano regole manca un trading plan manca un trading strategico ok qua ragazzi c'è da studiare c'è da studiare tanto se siete a questo punto numero due errori vari trovate gli errori vari correggeteli e andatevi a scrivere perché li avete fatti il perché lo si è fatto può derivare dalla distrazione può derivare da una regola che è poco chiara ok quindi capite se è la distrazione regola poco chiara perché a seconda poi del perché si cambiano ovviamente le azioni che poi si vanno a fare in un secondo momento se un errore è stato fatto perché è un errore di distrazione mi insegnerò che devo stare più attenta quando faccio analisi se la regola è poco chiara bisogna andare a renderla chiara quella regola perché altrimenti finirà per domani farci fare un altro errore e noi dobbiamo avere le regole tutte quante chiare ok il terzo punto anche lui con gli errori bisogna capire da dove derivano questi errori e ragazzi fate bene attenzione e fate bene la differenza fra gli errori di distrazione che possono succedere è bene che non ci siano ma possono succedere e gli errori dovuti alla poca chiarezza perché lì c'è da studiare con la distrazione c'è da prendere provvedimenti diversi mentre con appunto regole poco chiare c'è da studiare c'è da approfondire la vostra strategia ci sono da approfondire le vostre regole punto numero 4 l'analisi coincide parzialmente sempre sotto la categoria errori ok quindi diciamo che se la risposta è no andate a capire perché e prendete un provvedimento nei confronti della motivazione quindi non rimanete lì e dite ah vabbè ok passiamo al prossimo trade no se non sapete replicarlo ragazzi fermatevi dal tradare riprendete a studiare o ricominciate a studiare o cominciate a studiare perché vi mancano delle regole vi manca un trading plan vi manca una strategia che abbia step by step punto dopo punto delle regole precise che vi dicano cosa fare quindi non tradate più errori vari come abbiamo detto bisogna capirli correggerli e capire in che sottocategorie vanno distrazione regole poco chiare c'è anche la mancanza di disciplina a volte ci sono errori dovuti per esempio alla mancanza al fatto che non si è seguita una regola prima faccio un esempio stupido io mi sono data la regola che quando vado in palestra perché vado in orario operativo quando i mercati chiaramente me lo permettono mi dovrei portare l'ipad la verità è che spesse volte non l'ho fatto quindi mi ritrovo ad aprire trade mi è successo dal telefono e questo mi porta a fare errori quindi in quel caso l'errore mio è una distrazione dovuta però alla mancanza di disciplina io dovrei essere disciplinata e portarmi l'ipad in palestra anche se mi pesa mi fa volume mi infastidisce l'ho comprata apposta e dovrei utilizzarlo non soltanto per netflix capite che ogni errore deve essere analizzato faccio un piccolo recap prima di passare all'altro punto andiamo a fare la copia del layout andiamo a ristudiare il trade a quel punto ci ritroviamo con lo stesso trade sì o no se no queste sono le possibilità di errore andiamole a studiare in tutto ciò qua potete screenarvi appunto il video così vi prendete lo schemino magari aspettate che completiamo anche l'altra parte perché sì ragazzi c'è anche la risposta positiva che vede comunque uno stop loss quindi rifare esattamente lo stesso trade sì eh ma cavolo ho preso uno stop loss c'è un errore per forza devo andare a capire qual è no ragazzi toglietevi dalla testa che uno stop loss vede per forza un errore non è così altrimenti significherebbe che la strategia vincente è quella strategia che non porta stop loss capite che è impossibile come detto se ce l'avete vi prego trovate la mia mail qua sotto mandatemela vi porto sul canale vi intervisto ma vi posso assicurare che non è così vi posso assicurare che non esiste strategia che non vedrà mai uno stop loss esistono strategie che ne vedono di più strategie di meno e via così ma non esistono quindi avrete stop loss anche se seguite le regole che cosa fare in questo caso si va a studiare comunque l'operazione come abbiamo fatto quindi copia del layout e tutto a quel punto si va a pulire il grafico e ripartire da zero pulire il grafico e ripartire da zero e questa tra l'altro è anche la stessa cosa che si va a fare dopo che si è capito l'errore che si è fatto quindi abbiamo studiato l'errore abbiamo capito che cos'è ok come faccio un attimo a ricalibrarmi su questo grafico diciamo un percorso andiamo a pulirlo e ripartiamo da zero ok quindi ho studiato tutto ho capito se il trade dovevo farlo effettivamente come l'ho fatto se no perché come mai ragazzi ricordo focalizzatevi bene su questa parte qua perché ad ogni problema c'è una soluzione mancano delle regole manca un trading plan state studiando da soli state studiando su youtube affidatevi alla formazione investite nella formazione in cui credete non è tutta fuffa c'è tanta fuffa è vero ma non è tutta fuffa tante formazioni possono darvi veramente un percorso solido che vi farà seguire come detto appunto un percorso vi farà filtrare filtrerà per voi il materiale utile da darvi da farvi seguire senza che siate su youtube a cercare video per video ok quindi numero uno se ci sono degli errori capite da dove arrivano i vostri errori capitelo perché io ho un elenco di errori enorme anche io faccio errori è normale fare errori è umano più che normale non dovrebbero esserci ma ci sono e io ho varie tipologie di errore l'errore da distrazione l'errore da mancanza di disciplina l'errore dovuto magari perché in quel momento proprio non si poteva capita a volte magari che lo so uno in macchina scatta l'operazione io traccio velocemente il supporto la resistenza quello che è in realtà ho già tutto pronto quindi setto velocemente il setup ma magari non posso proprio fermarmi sono in autostrada quelle situazioni fuori dal nostro controllo che portano ad errori ma bisogna capire che cosa provoca l'errore ok capito questo se siamo al punto numero uno no non seguite la freccia mi raccomando fermatevi e studiate trovate un modo per studiare se siete al punto numero due dopo che vi siete analizzati seguiamo le freccettine e andiamo a pulire il grafico e ripartire da zero quindi che cosa fare abbiamo trovato questo stop loss qua ragazzi potete farvi uno screen dello schemino così appunto ve lo potete tenere e seguire e rifare su carta come preferite appendetevelo al muro quindi adesso che cosa faccio pulisco il grafico ma soltanto il setup per me perché tanto questa è la seconda analisi abbiamo già rifatta quindi già abbiamo effettivamente visto che è tutto valido però devo capire qual è la situazione adesso perché è stato preso uno stop quindi in questo caso la situazione perfetto direi che direi che siamo un po' incasinati quindi vado a mettere tutto quanto nascosto perfetto quindi la mia struttura è valida? sì la mia struttura è ancora valida quindi la daily c'è eccolo qua dove era quello di prima ci siamo spostati un pochino ok poi quattro ore la mia struttura è ancora valida? sì è ancora valida ha tenuto perfettamente mi ha fatto prendere uno stop loss purtroppo ma ha tenuto perfettamente quindi sul 15 minuti resto in attesa di un nuovo possibile setup che al momento per me non c'è vediamo che cosa succede dopo ok i prezzi vengono giù lateralizzano ancora un po' ok appena trovo un setup mi fermo nel frattempo facciamo attenzione qua perché è passato un giorno quindi siamo passati dall'1 di dicembre al 2 quindi voglio verificare che le strutture siano effettivamente ancora valide quindi mi sposto sul daily vedo che effettivamente il 2 è ancora valida la struttura sì ma la 4 ore non è più valida per me è stata rotta quindi vado a prendermi la prossima 4 ore che in questo caso trovo qui perfetto quindi sul mio 15 minuti in questo caso dove vado ad operare non ho una 4 ore quindi devo aspettare che i prezzi arrivino in zona 4 ore e quindi per ora è un setup in attesa li voglio da queste parti qua quindi per ora non posso fare nulla quindi come vedete ho preso uno stop loss ma al momento il nuovo setup effettivamente non c'è e quindi non ho modo di operare nuovamente quindi ragazzi questo qua vado a riprenderlo è il ora devo sbloccarlo pezzo per pezzo è lo schemino che vi consiglio di screenare se ancora non l'avete fatto così da andare appunto a capire eccoci qua che cosa fare dopo uno stop loss ve lo faccio bianco così lo screen viene più carino perfetto quindi questo è lo schema da seguire dopo uno stop loss è molto semplice ragazzi dovete per forza di cose seguire questo schema è tassativo proprio perché andiamo a fare uno sfondo eccoci qua che bello perché se non seguite queste regole e non è che ce ne sono altre da poter seguire sì poi per carità c'è la variante dove potete tirare un pugno potete urlare potete fare quello che volete ma a livello di grafico questo è quello che dovete fare non c'è non so se lo vedete non c'è la freccia di entra di nuovo preso uno stop entra di nuovo vai no no capiamo perché lo stop loss perché andare a forzare un'operazione e quante persone lo fanno e io pure l'ho fatto in passato al mio al mio esordio in questa attività quando prendevo uno stop ero talmente convinta di aver ragione che entravo subito quindi come avete visto questo era il setup preso lo stop io qua vendevo ragazzi entravo con una nuova operazione ma quanti di voi lo fanno ma tanto va giù sicuro sicuro anzi guarda ho pure un rischio rendimento maggiore e poi i prezzi sì magari effettivamente per un attimo ora qua sembra pure l'operazione della vita quasi quasi ed è un male quando succede perché vi viene data ragione su una cosa dove ragione alla lunga non l'avrete ok e quindi vi va a dare fiducia in qualcosa che non funzionerà ok ora guardate per caso penso pure magari l'esempio dove questo funziona però ecco non andate a fare una cosa del genere capite il perché del vostro stop loss quindi questo è l'unico procedimento da seguire non esiste rientrare in operazione subito non esiste andare a forzare appunto una seconda operazione non esiste aspettare un pattern non ci interessano le regole basta che faccia questo se fa un engulfing no regole ragazzi regole come avete visto io ho scartato il setup perché per me non c'erano più regole avrei potuto forzarlo il setup sì aveva senso no perché andare a forzare un setup che non c'è che non esiste per le nostre regole noi vogliamo un trading replicabile ragazzi non vogliamo guadagnare noi sì vogliamo guadagnare ma non è che vogliamo guadagnare punto vogliamo guadagnare in modo replicabile perché vi posso assicurare che il guadagno singolo una tantum non vi renderà felici anzi mettetevi una mano sulla coscienza sul cuore e chiedetevi quanto vi rende frustrati un guadagno che vi portate a casa ma che dentro di voi sapete che non saprete come replicare questa era una cosa che a me anni fa faceva impazzire in modo negativo io ho portato a casa un guadagno sono felice da un lato dall'altro quell'angoscia perché io non so come rifare questo guadagno cioè ho qualche idea ma non so se funzionerà di nuovo quindi ragazzi questo è l'unico modo per avere un trading replicabile e profittevole profittevole in modo replicabile soprattutto nel lungo periodo non esiste forzatura di operazione non esiste revenge trading non esiste il trading di vendetta ok perché con quello vi fate solo male tutto ciò che esula al di fuori di questo schema vi farà del male non oggi non domani lo farà dopo domani lo farà anche bello grosso quindi mi raccomando ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia dato qualcosa se avete dubbi o domande volete approfondire certi argomenti fatemelo sapere qua sotto nei commenti io vi leggo praticamente sempre tutti e molto spesso faccio video proprio realizzo video sulla base di ciò che mi chiedete scrina questo schema tenetevelo appendetevelo sul muro fatemi sapere se dopo questo video vi cambia qualcosa nel trading se effettivamente trovate un qualcosa che vi aiuti ecco a trovare la via quella corretta però come sempre ragazzi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like un commento iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video a trovare la via a trovare la via